Considerazioni di storia e di archeologia legate alle campagne di scavo compiute nel 2009 e nel 2010 nella zona della necropoli di Marinelle Vecchia a Campomarino. Un lavoro di studio e ricerca dal quale sono emersi importanti contributi di conoscenze per un paese che aveva un precedente insediamento molto grande in stretto rapporto con il mare. Luoghi e attività risalenti al III secolo a.C. e gestiti dai sanniti, tanto che questi aspetti possono stravolgere l'immagine di questo popolo. Perché l'immagine del Sannita nel mondo antico è vista come un guerriero che vive sulle montagne, che pratica pastorizio e non si è mai parlato di sanniti e il mare. Stiamo aprendo una porta, non è che l'abbiamo concluso, però già avere la possibilità di parlare di un insediamento di un porto alla fucile del Biferno che aveva rapporti con il mondo esterno significa molto. I risultati degli scavi sono stati illustrati in un convegno organizzato al Palazzo Onorante di Campomarino. Sono intervenuti tra gli altri Angela Di Niro per la soprintendenza regionale e i beni archeologici, Paolo Mauriello, direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università del Molise, esperti e studenti. Per il Comune di Campomarino si tratta di un ulteriore tassello nell'ambito di un ampio progetto di promozione culturale e turistica. Far capire che la cultura sempre più si lega al turismo, la cultura come promozione dei beni patrimoniali che abbiamo in questo caso, parliamo della necropoli di Marinelle Vecchie, ma una cultura che sempre più si sente in dovere di legarsi al turismo, affinché si possano lanciare e rilanciare le valorizzazioni tipiche del territorio per puntare su uno sviluppo economico che è quello a cui punta il turismo.